Rieccoci con l'informazione a cura di Meteocalabria.net, ci avviamo verso un fine settimana dominato dall'alta pressione, quindi tempo generalmente è bello e solo qualche addensamento nuvoloso sulla bassa Calabria. Il quadro per venerdì 28 dicembre, sereno poco nuvoloso con qualche addensamento in più fra Pibonesi e Reggino ma senza fenomeni di rilievo, venti occidentali e mari poco mossi, temperature invariate con fredda la notte e dal primo mattino. In sintesi la previsione è per sabato 29, situazione praticamente invariata, cielo sereno tutto al più poco nuvoloso, qualche nube solo sull'area meridionale della regione, venti deboli moderati dai quadranti nord-occidentali, mari poco mosso, mosso solo lo Ioneo Crotonese, temperature stazionarie. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.